Svolta decisiva per Riccardo Marchizza che si può finalmente definire un giocatore dell'Avellino. Il centrale romano classe 1998 al termine di una telenovela infinita tra Roma, Sassuolo e l'Avellino vestirà la maglia bianco-verde, una trattativa estenuante con la società emiliana che inizialmente voleva spedire Marchizza al Cesena in virtù degli ottimi rapporti. L'Avellino però forte dell'accordo trovato già da tempo con giocatore ed agente non ha mollato ed è riuscito a fare breccia nel muro nero-verde. Successivamente disaccordo sull'ingaggio del calciatore con distanza economica tra le parti anche per quanto riguarda la valorizzazione da riconoscere all'Avellino ancora nella giornata di ieri. Distanza limata in queste ore con il buonsenso e il lavoro del procuratore Michelangelo Minieri. Marchizza dunque si appresta ad indossare la maglia dei lupi e domani pomeriggio sarà con ogni probabilità ad Avellino dove sosterrà il suo primo allenamento con gli Irpini agli ordini di mister Novellino e sarà presentato a stampa e tifosi. Chiuso il capitolo relativo al difensore i biancoverdi hanno praticamente messo le mani su Morgan Ato 19enne esterno classe 1998 cresciuto nello standard Liegi che andrà a rinforzare però la primavera di mister Iandolo come fuori quota e che potrebbe rivelarsi utile anche per la prima squadra soprattutto se Gavazzi non dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico. Avellino quindi praticamente completo che ora potrà godersi gli ultimi giorni di mercato da spettatore salvo clamorosi colpi di scena.